e di ritorno con parlare fa bene nel programma vivere bene appropriato questa volta del turno di silvana di rispondere alle domande che gli faremo e allora silvana sei pronta pronta si fa bene veramente parlare certo allora abbiamo parlato di pregi e difetti quali sono le qualità che tu cerchi nelle altre persone cos'è che ti piace allora la diplomazia la generosità non generosità materiale generosità nel voler aiutare le altre persone in bisogno empatia verso gli altri intelligenza giusto senso d'umore si importante ridere e sorridere e quindi le persone che ci fanno ridere e sorridere secondo me sono qualità importanti quali sono invece le cose che non sopporti nelle altre persone l'arroganza alla non diplomazia la gelosia gelosia invidia sì 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 Anna hai difficoltà o facilità nel riconoscere le tue qualità facilità no perché è sempre difficile appunto dire sì sono brava a fare questo fare questo invece è molto facile dire sai riconoscere i suoi difetti io trovo è più facile per me riconoscere i miei difetti che le mie qualità i due difetti vengono dopo adesso parliamo di qualità perché ne parleremo anche dei tuoi difetti se ne hai ma riesci a riconoscere le tue qualità riesco a riconoscerle con facilità no però riesco a riconoscerle riconoscerle e i tuoi difetti insomma le riconosci sì sì li riconosci quali sono dai già che ci siamo parliamo dei difetti dei miei difetti hai dei difetti quali sono dei tuoi difetti perché parlarne fa bene no se vuoi proprio ecco la mia sessione di psicoterapia sì ma non c'è niente di male nessuno è perfetto anche se non lo so se tu ne hai dei difetti eh sì come no una persona integra comunque prego lo spazio è tuo allora poi se vuoi condividi dici sì condivido no però sicuramente condividerai sono puntigliosa su tante cose non so se è un difetto quello comunque può esserlo può esserlo è buono essere precisi in tutto ciò che facciamo ma può diventare un difetto ehm perché la precisione diciamo non esiste non esiste tentiamo di essere più precisi possibili però siamo in un mondo nella quale ciò che è precisione per me non è necessariamente precisione per l'altra persona per un collega di lavoro per per un marito per una mamma per un fratello per non abbiamo non la precisione non è uguale per me e per te per esempio e quindi se io voglio le cose precise a modo mio diventa un difetto questo sì sempre sono sempre stata un po più puntigliosa diciamo quindi un difetto sono ancora sono ancora sono ancora indeciso se vedere la precisione come un difetto perché secondo me grazie alla precisione che si va avanti e si accelle no? sì ma si è anche molto più duri con se stessi va bene questo siamo d'accordo tutti e due altri difetti? che non è secondo me posso avere la testa dura delle volte quella fa parte delle tue radici calabresi ok che poi anche lì non si sa delle volte bisogna la vita bisogna avere la testa dura perché riesci a sfondare riesci ad andare avanti sì sì su alcune cose certo può essere una qualità però bisogna riconoscere quando non lo è quando non è troppo non è buono tu dici l'ultima domanda che facciamo alla cara Silvana è questa quali sono le qualità di Silvana? ma io direi che sono generosa sono una persona generosa posso esserlo per quanto riguarda materialmente adoro regalare adoro dare le cose alle persone mi soddisfa molto cos'altro? e poi generosa anche nel poter esserci se una persona ha bisogno se ha bisogno di parlare se ha bisogno di assistenza con qualcosa se posso aiutare faccio del tutto per farlo quindi generosa direi? concordo 100% e a proposito comprensiva anche sei anche generosa con i bambini perché dai caramelle e cioccolate sempre ai bambini che ti stanno attorno e mi piaceva riceverle e quindi ricordo quanto mi faceva piacere e allora mi metto al loro posto parlando di halloween casa tua è la migliore casa da andare a bussare le porte i bambini perché i tuoi cioccolate sono sempre di qualità dopo daremo l'indirizzo magari è chiaro che questo programma Silvana entra in un altro programma che è vivere bene e che delle volte bisogna fare questi ragionamenti e forse li stiamo facendo fare anche agli amici che ci stanno seguendo a casa perché parlarne veramente fa bene ti ringraziamo Silvana veramente di vero cuore grazie grazie per quella che sei e voi grazie per averci scelti anche stasera e soprattutto rimanete sempre con noi tutte le sere dopo Capri ovviamente prima alle 7 con il telegiornale alle 7.30 con Capri questa bella fiction e poi i nostri programmi insieme a Nicchè e Silvana rimanete con noi il pensiero della sera anche questo molto importante grazie a tutti e buonasera grazie a tutti